Alla foce dell'Arzilla in questi giorni si è lavorato al consolidamento del pilone centrale e delle due spalle sulle due sponde che dovranno accogliere lunedì 5 agosto il tanto atteso nuovo ponte che collegherà stabilmente Lido e Arzilla. Fonte di accese polemiche durante tutta la prima parte della bella stagione, il suo arrivo era stato preventivato per fine giugno ma così non è stato, con il camminamento anche provvisorio e materiale riportato, fatto, disfatto e rifatto diverse volte, prima con tubi corrugati in plastica, poi con tubi più grandi in metallo e con gli operatori commerciali della zona con non pochi mal di pancia. Rispetto al precedente però è tutt'altra storia, struttura in acciaio realizzato in due campate, avrà una superficie calpestabile utile di due metri e mezzo di larghezza e avrà una lunghezza di circa 40 metri e sarà verniciato in bianco a ricordare il fratello maggiore sul porto canale. Abbiamo pensato e deciso di montare e far montare il ponte nella zona industriale di Bellocchi in un solo giorno con due trasporti sezionali successivi al Lido e da lì con una gru abbastanza importante verrà posato sulle spalle, sulle pile che attualmente sono già posizionate e dove erano appunto dove erano gli sedime del ponte in precedenza che in questo momento è stato abbattuto. Quindi abbiamo concordato con le associazioni di categoria alla data che sarà il 5 di agosto che è un lunedì e partiremo la mattina presta appunto per evitare disagi di qualsiasi tipo, non saranno quindi presi e sottratti al pubblico utilizzo alcun tipo di parcheggio, chiuderemo un tratto diciamo di passeggiata del lungomare Simonetti vicino al tendone del Lido e davanti all'hotel Excelsior in maniera tale che la gru possa in maniera del tutto sicura appoggiare i due pezzi di le due campate del ponte sulle spalle esistenti e una volta che sarà montato il ponte sarà fruibile dopo alcuni giorni dopo che le pratiche insomma saranno fatti dei lavori di finitura molto soft inizialmente provvisori per poi magari ritornare più avanti a settembre a finire tutte le rampe di accesso in calcestruzzo eccetera e poi sarà smantellato il vecchio guado. Inizio delle operazioni quindi alle prime luci dell'alba con la grande gru che con precisione millimetrica dovrà posare la struttura sui supporti in acciaio che questa mattina tecnici e operai della ditta Biagiotti hanno collocato oltre ad effettuare operazioni di allineamento.